Io fanno due fight, ma vengono tutti e due, perciò... Aia, aia, siamo proprio in traiettoria! Però a fine traiettoria, dai! Eh, speriamo che molti scendano da Superstore e... Le abboniardi! No, teniamo d'occhio a Airport a vedere se è il caso di buttarsi! Ok! Guadagna dinero completando contratti, depredando o eliminando bersagli! Indica un punto di lancio per il team! Per raggiungere... Eh, guarda la coda dell'aereo! Ok! Andiamo, andiamo! Ormai sono già qua! Non c'è niente lì al buco, eh! No! Sono andati tutti da quell'altra parte! Sì! Mi sa verso Superstore! E poi arriva che la Madonna non morisse! Un po' all'altra parte delle shots di Burt. Un po' all'altra parte... Un po' néogliare? No! Puff! Un po' l'altra parte di Burt. Un po' lì! Un po' lì! le piastre non ne ho viste ancora qua c'è una piastra non mi avvicino solo dall'aggancio la corona rossa che c'è adesso è perché ha già fatto più soldi o perché è quello che ha fatto più soldi al mondo avvio scansione radar perché secondo me viene saltato pezzo mi sa di sì qua c'è qualcosa non tantissimo ecco una mina la lasciamo qua che magari per simpatia un'altra eliminato ma è fatto per amore vediamo se c'è l'amore per chi attaccio bersaglio dell'attacco aereo marcarla qui l'ho del 27 se la grappola in corso due macchine ma che ho dato via libera soldato nemico in arrivo Porca miseria Andiamo via di qua Devo caricarmi solo senza piastre Anche io Ok vai ti seguo Ossile in scesa nell'area Occhio in alto Hai fatto? No Eh ma un bel caso Hai l'angelo di me che si è in fondo Sono nel loro mirino Omi di merda Estraspondi la città Sticare una zona per il recupero Nozze e merda Sto raccogliendo quello che avete esaminato Sono qua Preparati a muoverli Cazzarola Ha fatto saltare la macchina per questo E' anche lì atterrato E' già morto Vai dove ti pare Qua c'è su Non ti ho visto Non ti ho visto Ma com'è sta storia Non ti hanno visto perché sei dietro di rottami della macchina Ah tipo ho bagato Si Se riuscisse o a salvare Arriva 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 Ma almeno a recuperare i soldi quando muoio Mi ha detto di venire a cercare me che mi fai la volta Ho anche due piastre Io non mi sono morto apposta Per cercare di andare alla più lunga Ecco sono morto Ma sta carovana di macchine Non l'avevo vista mai una cosa simile E' ma infatti Occhio Eccolo Uabin Uabin nemico in volo Cioè abbiamo fatto una roba da panico là in mezzo noi due Si Ecco ecco indietro indietro No dai mi sparano Porca broia Ti sei sposto Io l'ho detto spostati là Ah no ho sentito Mi ero spostato perché di dove è Ti avevo visto atterrato Ti volevo di dove era No no Io volevo mettermi dietro il muro Perché avevo capito che ti sparavano da di fronte Ce la fai Tano Oppure sei troppo lontano 120 metri Forse riesco a salvarne uno Perché arrivo No vabbè Ma più di altro con la macchina Perché a piedi No niente Siamo morti entrambi Non so come Eh perché c'è uno qua Dove siamo adesso Io entro dal tetto Non so come fare le torri una per una Io faccio il salto Sono munizioni qui Sono munizioni qui Oh Termite lanciata Termite Terra entrambi Ma Ma dove c'è Versaglio a terra Che macchia In piedi Non so come fare le mani Di sopra ragazzi Sì Bisogna andare sul tetto Mi sa che quelli Scesa nell'area Occhio in alto Due macchine di nuovo Eccolo Eccolo Colpino arrivo Impiastratevi Se prendete freddo Sì Ce l'avevo la corona Tu a destra Cioè di fronte a te Almeno Sì a 29 metri Nella direzione Della mia freccia Quindi sarà sotto Evidentemente Visto che non lo vedi da lì Mi stanno sparando Oh dai Non può sbagliare Come si può far sparare A raffi Mi puntano Colpino arrivo Così va meglio L'ho fatto Sono rimasto praticamente Mutandolo Magari Nemico in discesa Nell'area operativa Parola Vabbè Era impossibile Che rimaste alla OK Corral Praticamente Sì Vediamo un po' Vediamo un po'